Buonasera a tutti voi appassionati di musica. Questa è una puntata molto particolare perché celebriamo Enzo Iannacci. Le sue canzoni io le conoscevo anche da prima di incontrarlo prima di diventare un suo fiancheggiatore, tifoso e anche amico. Poi lui era blues nell'animo, lui era un poeta. Mi sono accorto di quanto bravo fosse a suonare il pianoforte e quanto bravo fosse a usare la poetica e l'improvvisazione. Appoggiò il telefono con la cornetta sopra il pianoforte e mi cantò Ci vuole orecchio. Il prossimo lunedì, noi saremo puntuali con voi, celebreremo Tom Waits, quindi sarà una serata waitziana. ricordatevi di stare sempre su Gentiloni.